Quindi avvio subito, ti botto a registrazione. Sì sì, falla pure partire, io... Capito, signora meta? Ora, tra tipo un minuto, faccio partire a registrazione. Sì. Oh mio Dio, c'hai la testa che spunta fuori dal... Oh mio Dio, come... Dal cri... dal criogenico. Ti vedo la testa che spunta fuori dal criogenico. Fa lo screen, fa lo screen, fa lo screen. Ok, in teoria non dovrebbe essere più clicciato perché io sono entrato nel mio corpo. Non so perché ho iniziato a laggare in una maniera vergognosa. Ah, perché io sono entrato nel mio corpo. No, sul sero meta, sto laggando in una maniera mostruosa. Sei uscito? No, sincro in 3, 2, 1. No, meta, tu non hai capito. Oh mio Dio! Ehm... Prova a muoverti. Ehm... Ehm... È tutto bloccato? È es... Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Oh... Sì. Oh Dio, inizia. Sei arrivato. Infatti, si è bloccato il criamento a me. Oddio, va sempre peggio. E infatti, si sono appena sconato. Oh mio Dio! Oddio! E infatti, il salvataggio è disabilitato dal sero. E infatti... Se provo a uscire, non mi fa uscire. Allora... Proviamo a salvarlo. Perché ho chiuso il gioco? Allora sono poco cretino anche io. Può anche essere. Ok ragazzi, colleghiamoci al signor Kalec. Allora, gente. Salve a tutti. Connessione al server. Allora, il signor Metatron si è collegato. Allora, come potete vedere... 30, 40, 50... Ma come le parlo di fuoco internet? Esatto. È scaricato, ora carico. Fighissimo. Ok. Allora, gente. Siamo qui. Stiamo caricando la partita. Vedete che ci stiamo muovendo fluidissimi. Siamo pronti a registrare il survival. Nuovissimo episodio. La continuazione della nostra avventura. Dove dovremmo scoprire che cos'è successo in questa stazione. Per quale motivo ve lo sto anticipando e dicendo così? Beh, aspettiamo che il signor Metatron Logie possa uscire dalla posizione imbarazzantissima in cui si trova in questo momento. Ancora con questa storia? Vabbè, sì. Sei ancora lì. Io, aspetta. Ciccio, io almeno non tiro fuori le braccine e le gambe. Sì, tiri fuori direttamente la testa. Ok. Sì, ma è per vedere chi c'è. Se ci sono nemici, io rimango dentro. Esatto. Sì, bravissimo. Ok. Potresti guardare dal vetro. A te invece ti metti fuori le braccia e ti possono arrestare. Ti metto le manette. Vedi? Invece a te ti giustiziano direttamente. Cappi al collo. Ok, allora. Aspettiamo il signor Metatron che arrivi. Vediamo un po'. Oh! Non ci credo. Le minacce servono. Le minacce ci volevano. Le minacce. Ok, questa parte di video non sarà vista da nessuno. Perfetto. Io non ho parole. Alex? Meta? Alex? Henry si sta muovendo. Kale? Sì? Vieni un secondo da Henry, per favore. Che cosa è successo? Perché Henry si sta muovendo? Te viene un secondo qui. Sì? Guarda là dentro. Che cazzo... Che cazzo... Che cazzo... C'è, pure il mio drone è stato staccato. Per... Che cazzo... Meta? Ah, io... Vieni un attimo al mio drone. Sì, sto arrivando. Un secondo ti voglio far vedere perché ti farò causa per la perdita della retina. Te l'ho mandato. Intanto odio, Voda. Che cosa... Che cosa è questa roba? Ferro! E questo ci faceva muovere. Probabile. Ma... Perché esce ferro dal connettore? Tu, grandissimo figlio di un connettore. Non c'è nessun raccoglie tutto e nessun butta fuori. Tu! Ti ho detto, c'è qualcosa che non va nel salvataggio, Meta. La smerigliatrice smeriglia lastre, non... Esatto. La smerigliatrice non dovrebbe avere lingotti di ferro dentro. Perché ha lingotti di ferro dentro la smerigliatrice? Mettilo qua, Meta, qua, qua, qua. Sopra questo... Sopra questo reattore qua. Fatto? Eh... Ne ho già piaciate 5. Ti prego, non dirmelo. No, non mi cazzo un cazzo. Ho detto, papalle, papalle. Scusa, posso provare la smerigliare un cubo? Così. Why not? Lo smerigli. E allora perché... Se non mi fai cazzare st'antena di... Aspetta. Non mi dire perché se è così... Terra. Un tubo. Uno. Preso. Non me lo piazza. Bene, signori. Se non lo piazza a te... Bene, signori. Questo è l'attuale stato del Surviving Survival. Abbiamo dei grossi problemi e... Ci sono buone probabilità che questa settimana... Salteremo. Perché... Se non sistemano la giornata... Se non aggiorno e non non sistemano... Siamo fottuti. No, davvero. Non è possibile. Davvero. Io devo abbassare le luci now. Perché... Abbassa le luci now. Ma tanto adesso stacchiamo perché... Tanto più. Proveremo altri salvataggi ma... Cioè, almeno... Si sclera. Cioè, c'è un cavolo da fare. Cioè, dai, non posso... La intensità è 0.5. Ah, questo... Luciana. Meta, meta, oh cacchio. Meta, girati. No, te non puoi capire. L'intensità è a 0. No, Meta è molto peggio di quello che pensavamo. Vieni a vedere. Sono qui. Dove sei? Le luci anga sono a 0.7 l'intensità. Sì, le luci anga sono a 0.7. Guarda un po'. Anzi. Aspetta. Smeriglia un blocco e prova a piazzarlo sulla navetta. Prendi una lastra d'acciaio e prova a piazzare un blocco di armatura sulla navetta. Ce l'ho, ti c'ha le lastre io? Bene. Ok. E ora piazza l'antenna. Cosa mi stai... Ti serve un... No vabbè, non ho più tubi. E ora vediamo un po' se ho ragione. Piazziamo un blocco programmabile. Non piazza i blocchi programmabili. Proviamo a piazzare un blocco timer? Mi serve un pannello da interni. Ce l'hai? Prova a piazzare un blocco timer. Blocco timer, timer, timer. Il blocco tecme. Tumr. Ok. Piazzalo. Sto provando, Calek. Ci sto provando. Già. Ora fermo, signori. Signori, vi sono in terza persona. Signori. Meta, venga qua di fianco a me. Tumr. Credo proprio che abbiamo un problema. Finché non lo risolviamo, temo che il Surviving Survival deve essere sospeso. Quindi probabilmente, probabilmente non è sicuro, salteremo una settimana. Perché... Oh. Avete visto tutti quello che succede. Già. E perché ora va bene. Perché dopo vi metteremo il risultato. Esatto. Tanto ho registrato anche quello, quindi. Esatto. Quindi... Questo ci sta. Face spam ci vuole. Ok, ragazzi. In 3, 2, 1. Perfetto. Ok, ragazzi. Detto questo, sappiate che io e Meta faremo video di altro a questo punto. Faremo altre cose. Andiamo a scopermi. Magari faremo un video di Neverwinter, non lo so. E basta. Speriamo di risolvere il problema in settimana. Quindi magari ci sarà il Survival. Magari riusciamo a farlo. Non aspettatevelo però per questa settimana. Perché è possibile che sia un problema di mod. E in quel caso ci vorranno un po' di giorni per scoprire qual è. Perché abbiamo una lista veramente lunga di mod su Henry. Ed è abbastanza un casino. Ok, noi abbiamo le antenne vanilla, sono sparite. Abbiamo i timer vanilla, sono spariti. Abbiamo i blocchi programmabili vanilla, sono spariti. Una cosa è rimasta che è Henry, che non è vanilla. Esatto. Dunque, cosa è rimasta sono le mod. Quindi io lascerei le mod e le vera è vanilla. Esatto, a questo punto facciamo una nave solo mod, niente vanilla. Ok ragazzi, speriamo di aggiornarvi presto. Ciao ciao. Ciao ciao. Io non saluto perché non ho la macro. Ah no, ce l'ho, ok. Ciao ciao. Che ti sei felice te. Ciao ciao.